Maria Venier si scaglia contro gli ater. Sono le donne in menopausa a offendermi. Sottolinea in una lunga intervista alla stampa. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva pubblicato una foto in cui era immortalata col marito Nicola Carraro. Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito voi, aveva scritto a commento dello scatto. Un utente l'ha criticata, tagliati questi capelli, non vanno più bene, perché sei vecchia. La replica della bionda è stata piccata, amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i coglioi con i miei capelli. Perché? Pioggia di like per la zia, l'utente non ha più replicato. Al quotidiano ora spiega al perché della risposta a tono. Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un'estate in salita. Precisa la presentatrice 70enne. E prosegue, posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto. Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito. A proposito degli Atermara dice, sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull'argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Amara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere. Allora sono passata all'attacco e ho risposto. Perché sono le donne a offendere? Non lo so. Però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l'infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Mi sbagliavo. C'è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell'età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo continua l'avvenire accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull'età e sull'aspetto fisico veramente diventa bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. Basta, avete rotto con l'età e il sovrappeso. La regina della tv è fiera del suo aspetto fisico, non devo rendere conto a nessuno di niente. Sono orgogliosa delle mie rughe, sono contro la chirurgia plastica e mai mi fare la boccona o un lifting. Anche per paura. Io vivo bene con la mia età, sono una donna realizzata e felice e una nonna. Non nascondo che la gioia più grande è stare con i miei nipoti. L'odio sul web non le piace, come pure le fake news, quella che circola ora riguarda il problema del nervo lesionato. Raccontano sarebbe derivante dalla somministrazione del vaccino anti-covid ed è assolutamente falso. Queste sono le cose che vanno controllate perché è chiaro che qualcuno ci casca e pensa che sia vero. Chi insulta invece fa quasi pena, sono delle poverette. tante le blocco, ma quando mi diverto le lascio lì. Ma il discorso è molto più serio, conclude la veniera.